Se c'era bisogno di questo, non credo. Il tempo dirà se uno può fare l'allenato romeno. Come vi dicevo già l'anno scorso, uno deve cercare sempre di migliorarsi, poi è il campo che deve parlare, altre cose non contano poco. Le quali negative, come concretizzarle o come arrollarle? Ho fatto un po' l'analisi di tutto il campionato di Serie B dell'anno scorso, dove ho portato un po' delle statistiche sia da parte del campionato di Serie A, sia nella fase difensiva e sia per quanto riguarda la fase offensiva. C'è stato uno studio su questa componente che nel calcio di oggi è molto importante perché si vede spesso e volentieri che le partite si risolvono con queste situazioni di pali inattive. Poi sono più determinanti rispetto alle azioni fatte sui gol. Quando si fa una gol su una pali inattiva è statistica che porta o una vittoria o un risultato di pareggio, quindi è importante anche questo. La percentuale era il 60% di l'anno scorso quest'anno, cioè penso è quella dell'anno scorso? Quella dell'anno scorso dipende, sia il campionato di Serie B e Serie A, però spesso e volentieri è quasi la stessa, lì dove c'è una percentuale alta di realizzazione di queste palle inattive coincide con la posizione in classifica migliorata. Ecco, una media di 6 gol a squadra, una media però, e poi c'è chi ne fa di più, chi è arrivato a 10, chi è arrivato a 11, e questo comporta, ripeto, si parla di uno studio del campionato dell'anno scorso di Serie B e Serie A, ha portato le squadre in Serie A tipo Lazio e Napoli, dove sono stati magari quelle più efficaci a ottenere una posizione di classifica maggiore. Sfruttando meglio le palle cantine, che rappresentano dei gol fatti, E' stato uno studio fatto sia sui gol fatti, magari sui calci d'angoli subiti, calci d'angoli battuti, gol subiti, gol fatti, falli laterali, tutte le situazioni di palle inattive. Poi se volete ve la do una copia. Ma per capire meglio, condividere anche questo momento con Vivalini è stato... Ma con Vincenzo abbiamo fatto tutto l'anno, che andavamo sempre, quasi sempre insieme, a meno che sono nelle situazioni dove per calendario non è coincisa, però abbiamo sempre fatto il viaggio di andata e ritorno insieme, su tutte le lezioni che abbiamo fatto, quindi è stata un'esperienza bella, perché comunque ci si confronta, a prescindere con una persona che stimo, che secondo me è molto preparato, gli auguro di ritornare nella categoria della Serie B il più velocemente possibile, perché credo che sul campo l'abbia meritato. Poi quello che è successo non sta a me stare a commentare, però so la passione, so quello che ha fatto, che ci ha messo nell'arco di tutto il campionato. Commentare una situazione dove non sappiamo nulla, non è semplice e non è bello. È chiaro che mi viene da pensare un allenatore che ci ha messo tantissimi anni ad arrivare ad allenare in Serie A, e credo che se la sia sudata veramente sul campo, perché l'anno scorso lui, con tutta la società, hanno compiuto un miracolo, perché inizialmente non si poteva mai immaginare che il Carpe potesse andare in Serie A, però analizzando l'arco di tutto il campionato assolutamente non è stato un miracolo, perché è stata una squadra che l'ha meritato. Poi dispiace perché è sempre un collega, poi lo conosco, quindi mi sta particolarmente simpatico, perché è un genuino, un sanguigno, e dispiace, evidentemente la società non ha fatto le loro dovute valutazioni, però per quanto riguarda il mister è chiaro che dispiace, perché comunque se l'era guadagnato sul campo, però non commento altro, perché non è corretto da parte mia. La gioia per la promozione c'è stata poca, perché gioire dopo una sconfitta non fa parte del mio carattere. Dispiacere perché comunque il primo tempo abbiamo fatto anche abbastanza bene, dove la squadra, penso che le prime due occasioni da rete le abbiamo create noi, poi mano a mano siamo venuti scemando, però c'è un distinguo tra il primo e il secondo tempo, dove magari dovevamo continuare a fare quello che abbiamo fatto il primo tempo, non l'abbiamo fatto, siamo stati un po' troppo rinunciatari, ci siamo abbassati troppo. È vero che mancavano cinque minuti e quindi si deve fare di tutto per comunque di portare a casa un risultato positivo, perché non è detto lì dove magari non c'è una prestazione eccessa che non si può portare a casa il risultato, c'è il rammarico di questo, però se si va ad analizzare la partita, penso che soprattutto non fatto il secondo tempo, ci sta perché comunque siamo stati troppo rinunciatari. dovuto, non so se magari alla terza partita abbiamo pagato tanto il finire in crescendo sia a Trapani che con il Vicenza in casa, dove secondo me abbiamo speso molto, però c'è da migliorare, c'è da migliorare un po' su tutto, ecco. La riddita, come sta? Hanno fatto dei controlli, stiamo aspettando l'esito sia per lui che per piccolo, ci auguriamo che non sia niente di grave, però ripeto, si deve migliorare un po' su tutto. Inizialmente, sinceramente, Zeduardo l'avevo preservato in settimana per poter farlo ripartire dall'inizio, però non l'ho visto ancora recuperato al 100% e ho fatto una scelta di far giocare Gaetano, che poi tra l'altro penso sia stato uno dei migliori. È chiaro, come dici giustamente te, poi uno fa dei pensieri iniziali dove magari nell'arco della partita fare dei cambi, però purtroppo ci sono state queste due situazioni dove mi hanno obbligato a fare due cambi. È chiaro che fare delle scelte in base alle difficoltà e non in base magari agli infortuni è totalmente diverso. Lo stesso Modena, magari sono entrati i Bellinghieri e Galloppa che poi magari hanno influito anche sul risultato, quindi sì, peccato perché erano due giocatori che magari avevano problemi in settimana e si pensava che potessero andare avanti per tutta la partita, invece sono dovuto uscire. Mi auguro, ripeto, che non sia niente di grave e che facciamo tesoro anche di questo. I portieri sono Vincenzo, Arredità, e Casadea, Antonino. Angelo quando è entrato ha fatto bene. Se Vincenzo è chiaro, stiamo aspettando ancora l'estito degli esami, se Vincenzo dovesse essere in un fortunio più lungo del previsto o che deve star fermo, ci sono Angelo, Casadea e Antonino. Il portiere della primavera Antonino è lui che si allena con noi, quindi il mercato è chiuso per quanto concerne i portieri. Sono loro tre e quindi andiamo avanti con loro. Spezia ha vinto una partita, forse quella che meritava meno di vincere, però sul potenziale della squadra e se ci mettiamo a leggere tutti i nomi della squadra magari non facciamo altro che preoccuparci più del dovuto. Sappiamo che tutte le squadre possano avere magari la maggior parte delle squadre un potenziale sulla carta più forte del nostro, spesso è una di quelle squadre attrezzate per vincere il campionato. È chiaro che il bello del calcio è che a volte non sempre la squadra più titolata, la squadra più attrezzata porta a casa il risultato, quindi dobbiamo cercare di fare il massimo per annullare questo gap. È difficile perché comunque la squadra è forte, ma non è sicuramente impossibile perché abbiamo dimostrato anche di mettere in difficoltà squadra anche più superiore a noi, quindi sta a noi magari entrare in campo con una determinazione giusta e con la voglia di portare il risultato a tutti i costi. Non saprei dirti l'avversario migliore o peggiore perché prima della trasferta magari il pensiero nostro che poteva essere in una situazione di trasferta di Liga, magari si poteva pensare che il Modena non è... Per come siamo fatti noi dobbiamo pensare che sono tutte difficili, a prescindere dalla squadra che abbiamo di fronte. Ce lo spezza, quindi a maggior ragione dobbiamo pensare che è una partita dura e difficile, ma questo non significa aver paura, aver timore, significa solo cercare di affrontarla nel miglior modo possibile già dall'arco della settimana, dagli allenamenti. Ma Nic oggi si è fermato anzitempo dall'allenamento e sì, cioè... Può essere che magari gli 8-11 hanno fatto tre partite che può essere che ha influenzato anche quello, però ripeto abbiamo fatto le altre due partite dove abbiamo finito increscendo sia col Trapani dove faceva molto caldo e devo dire che fisicamente abbiamo finito molto meglio noi rispetto al Trapani, ma lo stesso anche con Vicenza abbiamo fatto un secondo tempo dove abbiamo speso tanto, forse ci ha tratto un po' un inganno quello, però devo dire che anche le altre squadre, se mi viene in mente il Trapani, ha giocato con 9-11 tutte e tre le partite, quindi è chiaro che magari avere due trasferte di cui una è distante e l'altra magari comunque due partite su tre in trasferta può avere influito anche quello. Però, ripeto, a prescindere dalle difficoltà dovremmo essere bravi comunque a portare a casa il risultato perché non sempre ci capiterà di fare delle ottime partite sotto l'aspetto delle palle goal perché anche le altre squadre non è che creano tutte queste situazioni da palle goal, quindi dobbiamo essere più bravi e maturi magari a portare a casa un risultato perché il punto alla lunga può essere pesante. I cini ci sia magari quando si ha la possibilità anche se devo dire che è stato bravo e fortunato il portiere sulla situazione di Gaetano e sulla situazione di Piccolo c'è stato un po' di bravura loro e lì magari su quella situazione di Nick dove si è trovato in uno contro uno con il difensore centrale già munito e si poteva far meglio però anche nella situazione del goal dove se si va ad analizzare il goal errori clamorosi non ce ne sono stati perché comunque eravamo in due sulla palla e comunque gli abbiamo concesso il cross e anche sugli successivi passaggi sul colpo di testa comunque il giocatore era marcato Galloppa che ha fatto gol c'era Federico che ci è arrivato col piede quindi un po' più di determinazione sotto quell'aspetto dopodiché i ragazzi devono continuare su questa strada devono pensare come gli ho già detto oggi che nonostante avessimo fatto un secondo tempo un po' rinunciatario sotto tono comunque le squadre avversarie fanno fatica a farci gol e a batterci e dobbiamo pensare a questo quindi continuare sul lavoro e basta il nuovo gol ade 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 grazie a tutti